e benvenuti ragazzi sono Cilberaga e sono qui oggi tornato a fare un video così abbastanza random in cui giochiamo con il padding giusto perchè mi manca giocare col cecchino facciamo qualche partitozza col cecchino voglio usare questa mimetica qua a caso e niente vi lascio qualche highlights spero che questi video con il cecchino vi piacciono nel caso in cui appunto vi piacciono magari il prossimo lo faccio col koshka se chiamo ad arrivare facciamo a 50 likes se ci riusciamo direi che possiamo partire andiamo a giocare non sicuramente non newton perchè se no moriamo instant invece andiamo deathmatch tranquillissimo andiamo a farci qualche partitozza possiamo anche cambiare le serie di punti mettiamo uav contro e basta perchè non ci lasciano tempo a mettere l'altro comunque ve lo dico subio 4 è dura giocare con il cecchino perchè la gente è veramente abbastanza arrabbiata piace giocare con le armi alla gente su black ops 4 non c'è tanta gente che gioca col cecchino e quindi è dura andare sempre in 1v1 senza quasi possibilità di vincere il fight si hitmarker col paladin però no eh no grazie usa pure il tuo tempest cucciolo usa pure il tuo tempest e tu non so fai cosa vuoi ma no hitmarker qua no eh eh no non puoi fare un hitmarker lì eh ma c'è uno dietro grazie amici che mi avete salvato ma vabbè ma basta questo hitmarker sto usando il paladin eh non sto usando l'outlow madonna questo qua questo qua mi tira due raffiche con un fucile d'assalto io devo sparare due colpi con un cazzo di paladin che c'ha la figa il danno di di un pugno di gilbe ebbè vieni qua spunta lo sa che vuoi spunta spunta 3 2 1 ehi madonna questo quanto scioglie eh eh cucciolo ma la gente dov'è oh easy tempest specialista più forte che c'è raga eh muori che sennò mi incazzo hitmarker eh eh scusa basta questi hitmarker uh ma c'è uno che diceva 777 nel tag clan guardalo lì la puttana eva giorgio power calandrelli eh qua slums comunque sempre bella bella pazzesco intanto c'entra un gruppo d'altra ma io gli lo spacco in testa sto paladin gli lo spacco in testa siamo al comando muori 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 sono bello carico questa partita eh raga ecco ecco ma dimmi te sei dov'è tirare la mia nightbang ma datti una bella sveglia frate uuuuuh get the fuck out man uuuuuh che line up c'era oh uno poteva fare bella bella tripla con l'altra uuuuuh madonna uuuuuh ma qua ora ora cosa mi dite eh guccioli ma cosa mi dite adesso eh guarda no ma quanti kg ho fatto rega con il tempest aiuto ne ho fatte tipo 10 uuuuuh più o meglio 75 e 74 no è bello guardate quanti kg ho fatto una due sono tre perchè ce ne hanno ancora uno quattro cinque poi mi pare lì che ce ne fossero due quindi sono sei è morta poi ne ho ancora fatte 3 ne ho fatte 10 secondo me puttana evo ok c'è jungle e io penso di odiarla jungle cioè è proprio una di quelle mappe che dico hola non la vuoi giocare cioè non lo so esteticamente non è male però boh è ingiocabile secondo me è troppo grande è troppo fatta male livelli energetici non fa per me tra l'altro mi pare di aver visto che sono contro un gruppo da 5 comunque ok non ci spaventiamo per nulla noi raga tra l'altro poi qua le partite durano 20 anni perchè è talmente grande che uuuuuh mamma mia oh si poi street marker qua me lo spiegate anche perchè uuuuuh a casa uuuuuh questa a me è piaciuta questa a me è piaciuta bravo il mio compagno che ha tirato l'elicottero così la porta dura leggermente di meno uuuuuh mi dispiace per la tua testolina bro ma questo no questo hit marker qua non te la concedo mica uuuuuh ma questo no muori pischellino adesso prendo il patine e vado a uccidere quello lì ma questo? e' la diamante e' una bella calmata frate suicide man attenzione cecchino cresce il minuto uuuuuh 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 tempest e' troppo forte raga non mi dovete challengeare quando c'ho il tempest uuuuuh uuuuuh seaside vi prego no e' veramente la peggiore che ci sia anzi no quittiamo dalla partita neanche payload volevo giocarla tanto io adesso il ricerco mi ritrovo la stessa partita quanto ci fate? no l'ho tratto un'altra però su seaside che col cecchino e' proprio ingiocabile col cecchino uuuuuh uuuuuh e' madonna eh? almeno ti affratti muori ma nooo street marker no eh ti vedo il noscope qua perchè non mi e' entrato il noscope raga siamo al comando uuuuuh uuuuuh ma questo si arrabbiato eh? uuuuuh ma questi qua? figa ma che problemi c'hanno il cervello uuuuuh nooo eh no però il marker così nooo perchè c'è ho fatto una playsy avevo fatto che uuuuuh morto morto anche tu ora arrivano qua e uccide anche loro ci tenete a essere pagati allora forza uuuuuh e' no? muori niente raga io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like, un commento e ci mettiamo indirettamente al prossimo video uuuuuh